Perfetto. Buonasera a tutti, vi do il benvenuto al webinar sul servizio civile digitale con indizioni per i progetti, con un focus in particolare su Digicomp, formazione e misurazione. Come saprete questo è il secondo appuntamento dei due previsti per fornire informazioni agli enti di servizio civile universale interessati a presentare i programmi di intervento entro il 10 marzo 2022. Il primo webinar si è svolto venerdì, trovate la registrazione e le slide dei relatori sempre su EventiPA, quindi passo a presentare il webinar di oggi. Avremo un benvenuto a introduzione da parte della dottoressa Silvia Losco del Dipartimento per le politiche giovanili e servizio civile universale e poi avremo tre parti di contenuti con il dottor Giuseppe Iacco e il dottor Paolo Martinelli del Dipartimento per la trasformazione digitale, quindi loro si alterneranno e vedremo il Digicomp e la formazione agli operatori volontari, poi vedremo le lezioni apprese dalla via sperimentale e focus sui servizi di facilitazione digitale e infine vedremo sempre con loro un focus sulla misurazione. Quindi vi ricordo che potete mettere le vostre domande in chat e noi le porremo ai relatori che risponderanno alla fine del webinar, è prevista una sessione di domande risposte intorno alle 15 e 10, quindi potete scrivere le vostre domande in chat. Anche questo webinar è registrato e troverete la registrazione a partire da questo pomeriggio insieme alle slide dei relatori e anche le presenze saranno registrate a partire da questo pomeriggio o domani mattina. A questo punto io dò la parola da dottoressa Silvia Losco che aspetto di vedere in video. Eccola, perfetto, prego dottoressa. Grazie dottoressa Chieppa e buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo secondo webinar sul servizio civile digitale. Come sapete il servizio civile digitale viene sviluppato dando seguito a un investimento che è inserito nel programma, nel PNRR riguardante le competenze digitali di base nella missione 1 del PNRR. Ecco, il servizio civile digitale è visto quindi come un istituto che è volto a valorizzare anche e a sviluppare competenze digitali di base in ambito nazionale. Questo programma di webinar si inserisce in un'ottica ampia di supporto che vogliamo dare agli enti sia in fase di avvio della programmazione e progettazione sia poi in fase di esecuzione dei progetti. Quindi i nostri webinar ai quali state partecipando in modo molto numeroso e di questo siamo contenti, vi accompagneranno nelle varie fasi della programmazione, quindi sia in questa fase di avvio alla fase di programmazione che poi in fase di gestione dei progetti e di chiusura. Il percorso che abbiamo chiamato di percorso di capacity building si avvale di questi momenti, ma chiaramente poi tutte le vostre domande, tutte le vostre questioni diventano per noi uno stimolo a rivedere e anche a pubblicare eventualmente FAQ per chiarire e migliorare tutto il complesso del procedimento nella sua totalità. Siamo in questa fase di avvio, quindi le informazioni che vi daremo in questo webinar come in quello che abbiamo eseguito venerdì servono a potenziare e affiancarvi prima dell'avvio del progetto, quindi proprio in questa fase di progettazione, in risposta all'avviso che abbiamo pubblicato. Oggi si tratteremo in particolare aspetti del servizio civile più che altro organizzativi e anche su possibili modalità di sviluppo dei progetti non tanto inerenti alle attività quanto allo sviluppo delle competenze, quindi questo framework DigiComp che verrà illustrato dai colleghi del Dipartimento della Trasformazione Digitale. Con oggi noi esauriamo il primo modulo del Capacity Building, che è quello proprio prima dell'avvio del progetto, quindi di supporto alla fase di programmazione e progettazione. Ne seguiranno altri e gli altri saranno webinar rivolti a chi di voi verrà selezionato per gestire il servizio civile, quindi gli enti i cui progetti saranno effettivamente finanziati e poi verranno seguiti in webinar successivi, volti proprio a mettere a punto al meglio l'impianto di servizio civile digitale e con attenzione soprattutto ai ragazzi. Io avrei finito questo momento di benvenuto e chiaramente ci rivedremo per tutte le sollecitazioni che ci darete a fine webinar per dare risposta alle domande che ci porrete e ci tengo anche a dire che tutte le domande, molte delle domande saranno poi raggruppate e le risposte saranno disponibili via FAQ sul sito del Dipartimento. Prego. Perfetto, grazie dottoressa. Allora do la parola a Giuseppe Iacone e Paolo Martinelli del Dipartimento Trasformazione Digitale. Prego. Grazie Roberta, grazie a tutti. Questo è un webinar che vogliamo pensare di approfondimento di alcuni dei temi che avete trovato nel programma quadro e che abbiamo illustrato nel webinar di venerdì. Diciamo che vogliamo darvi un po' di informazioni sia rispetto ai quadri di riferimento sulle competenze digitali di cui parliamo nel programma quadro e che sono alla base in qualche modo anche del tipo di approccio alle competenze digitali che col programma quadro si vogliono sviluppare e dall'altra parte però darvi anche delle informazioni rispetto a quanto diciamo così abbiamo appreso anche dal punto di vista delle possibilità di chiarimento dal progetto sperimentale dal progetto pilota per cui già sono stati definiti i programmi ammessi su cui è in corso il bando per i volontari proprio per dare anche dei suggerimenti e delle indicazioni specifiche in modo tale da poter definire in maniera quanto più diciamo allineata ai principi e agli obiettivi del servizio civile digitale al suo programma quadro i programmi e i progetti che andrete a definire. Dopodiché andremo ovviamente a fare alcuni focus da un lato sull'organizzazione dei servizi di facilitazione digitale su cui abbiamo detto alcune parole già venerdì e poi andremo un po' a specificare e a speriamo al meglio i temi di misurazione valutazione di impatto che sono un po' diversi rispetto al programma quadro del del progetto pilota che è stato che attualmente è in corso. Per cui diciamo il nostro obiettivo è quello di dare maggiore profondità e informazioni su tutti questi temi e quindi ovviamente saremo più che disponibili e lieti di dare ulteriori risposte nel corso dell'ultima sessione di domande e risposte. Per cui a questo punto darei la parola a Paolo Martinelli per i primi moduli. Prego. Grazie mille dottor Iacono. Cominciamo questo webinar con un focus su DigiComp e DigiComp Edu perché nelle attività del servizio civile digitale sono gli strumenti che verranno utilizzati come quadro di riferimento per la formazione, la valutazione e l'autovalutazione dei giovani volontari. DigiComp è il framework per le competenze digitali promosso dalla Commissione europea e nasce come uno strumento per migliorare le competenze digitali dei cittadini. Da esso derivano altri documenti elaborati per sostenere la trasformazione digitale nei campi dell'istruzione e dell'apprendimento. Tra questi troviamo DigiComp Edu che è il quadro di riferimento europeo per le competenze digitali degli educatori e dei formatori. DigiComp 2.1 che è la versione attuale del framework è costruito su cinque dimensioni e oggi proviamo a fare un approfondimento su due di esse che ci consentono di inquadrare facilmente lo strumento, cioè le aree di competenza individuate come facenti parte delle competenze digitali e i livelli di padronanza per ciascuna competenza. Anche le aree di competenza sono cinque e sono quelle che vedete sulla slide. La prima è quella dell'alfabetizzazione su informazioni e dati e descrive la capacità di navigare sul web per cercare e filtrare dati e informazioni. Questi dati, informazioni e contenuti digitali devono poi essere valutati e gestiti ed è l'area di competenza pertinente non solo quando parliamo ad esempio di fake news ma anche quando vogliamo descrivere la nostra capacità di giudicare una fonte come attendibile. La seconda area è quella della comunicazione e della collaborazione, descrive la capacità di interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali, di condividere informazioni, esercitare la cittadinanza e collaborare. Fa parte di quest'area anche la netiquette, cioè l'insieme delle regole di comportamento volte a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti e anche la gestione dell'identità digitale. La terza area di competenza è quella della creazione di contenuti digitali che descrive le capacità di sviluppare, integrare e rielaborare contenuti digitali, di gestire i temi del copyright e delle licenze nonché la programmazione. La sicurezza è il tema della quarta area di competenza che comprende quell'insieme di abilità e conoscenze che ci permette di proteggere i dispositivi, i dati personali e la privacy. E il tema della sicurezza deve considerare anche i campi della salute e del benessere e la protezione dell'ambiente. La quinta e ultima area di competenza è quella invece del problem solving che è direttamente correlata al tema della facilitazione digitale dal momento che descrive la capacità di individuare i divari di competenze digitali e le risposte tecnologiche a questi fabbisogni anche attraverso l'uso creativo delle tecnologie. La seconda dimensione che consideriamo oggi è quella degli otto livelli di padronanza che per ciascuna competenza sono definiti in Digicomp attraverso i risultati di apprendimento. È una cosa che trae ispirazione dalla struttura e dal vocabolario del quadro europeo delle qualifiche che probabilmente molti di voi conoscono. La prima versione di Digicomp che è del 2013 aveva tre livelli di padronanza cioè base, intermedio e avanzato. In Digicomp 2.1 che è appunto la versione più recente i livelli sono diventati otto e questo ci permette di supportare meglio lo sviluppo di materiali di apprendimento e formazione nonché la progettazione più puntuale di strumenti per la valutazione e l'autovalutazione. In questa immagine vediamo come ciascun livello rappresenti un gradino in più nell'acquisizione da parte dei cittadini delle competenze in base a tre parametri che sono la sfida cognitiva, la complessità delle attività che il soggetto può gestire e il grado di autonomia nello svolgimento dell'attività. Si può affermare che un cittadino di livello 2 in una delle aree di competenza è in grado di ricordare e svolgere un compito semplice aiutato da qualcuno con competenze digitali solo in caso di necessità. Un cittadino di livello 5 invece può applicare le conoscenze, svolgere diversi compiti e risolvere problemi oltre che aiutare gli altri a farlo. Vediamo molto velocemente anche Digicomp Edu che declina in ambito educativo i livelli di padronanza espressi nel Digicomp cioè attraverso l'espressione della professionalità degli educatori. L'obiettivo del quadro Digicomp Edu è quello di fornire un modello coerente che consenta ai docenti, ai formatori di verificare il proprio livello di competenza pedagogica digitale e di svilupparla ulteriormente. Inoltre fornisce un modello concettuale che è in grado di consentire ai diversi attori del sistema educativo e formativo di creare strumenti concreti adatti a rispondere ai propri bisogni e anche un linguaggio comune e coerente per promuovere la discussione e lo scambio di buone pratiche. Come dicevamo il motivo di questo approfondimento sui framework europei deriva dal fatto che rappresentano il nostro quadro per la formazione, la valutazione e l'autovalutazione dei giovani volontari del servizio civile digitale. Qui intendiamo le 8 ore di webinar e le 7 ore di moduli online di autoapprendimento che hanno per oggetto il focus sul servizio di facilitazione digitale, le 8 ore di webinar e le 11 ore di autoapprendimento sulle competenze digitali di base per la cittadinanza e tutte le occasioni formative che questi strumenti ci consentiranno di rendere traducibili anche a partire da esperienze territoriali tra loro diverse e insomma eterogene. Inoltre anche il questionario strutturato che verrà somministrato ai cittadini che accedono ai servizi di facilitazione, che è una parte integrante del sistema di monitoraggio, oltre alla raccolta delle informazioni generali sull'erogazione del servizio e i dati anagrafici dell'utenza, prevede una valutazione delle competenze dei cittadini che sarà costruita attraverso Digicomp. Vediamo allora più da vicino questa formazione dei volontari ma soprattutto il loro ruolo nei programmi e nei progetti degli enti. L'obiettivo fondamentale dell'attività dei facilitatori digitali è quello di rendere i cittadini utenti competenti e autonomi nell'utilizzo di internet e dei servizi digitali, abilitando un uso consapevole della rete. A questo scopo il facilitatore digitale supporta il cittadino nelle attività legate all'accesso ai servizi pubblici digitali, quali ad esempio la creazione di una propria identità digitale, la prenotazione di visite mediche, l'iscrezione a un istituto scolastico o a un corso online, il pagamento di una tassa o di una multa o altri servizi della pubblica amministrazione che siano locali, regionali o nazionali. Il facilitatore digitale sostiene il cittadino nelle attività legate all'utilizzo di servizi digitali offerti anche dai soggetti privati, ad esempio la gestione del proprio profilo su un social network o su un portale per la ricerca di lavoro, l'utilizzo a portali di e-commerce per la vendita o l'acquisto di beni o servizi e l'accesso ai servizi di internet banking, ovviamente nel rispetto della privacy del cittadino. Il facilitatore affianca il cittadino nella ricerca e nell'interpretazione critica dei dati e delle informazioni online attraverso i motori di ricerca, le testate web, i forum di discussione, le piattaforme multimediali, promuovendo sempre una comunicazione efficace e non ostile. Il facilitatore avvicina il cittadino all'utilizzo degli applicativi digitali di base, che possono essere fruiti da smartphone o da personal computer, come i browser internet, i software di elaborazione di testi, fogli di calcolo, ma anche il software per la creazione di presentazioni o per le videoconferenze o la gestione della posta elettronica. Sì, scusa, giusto per integrare. Quindi, diciamo, mentre a destra avete visto tutte le attività per cui si cerca di sostenere e rendere autonomo il cittadino e che quindi permette al cittadino di acquisire delle competenze digitali di base, dall'altra parte il compito del facilitatore per far sì che il cittadino raggiunga quel livello di competenze digitali di base e dall'altra parte deve essere tale da consentirgli di aiutare su quel fronte. Quindi, rispetto ai livelli di padronanza che abbiamo visto, diciamo che il facilitatore deve avere almeno raggiunto un livello di padronanza 5, che è il primo che gli permette di dare sostegno e aiuto. Quindi, il suo compito è quello di rendere autonomo, dall'altra parte per renderlo autonomo deve essere in grado di aiutare. Quindi, poi adesso vediamo un po' il programma formativo come di conseguenza si evolve. Prego. Grazie mille. Inoltre, il facilitatore digitale sensibilizza rispetto ai processi della sicurezza informatica. Vedete come queste attività riprendono, in fin dei conti, le aree di competenza. illustra i comportamenti, le buone pratiche perché il cittadino si tuteli dai rischi della rete, impari a proteggere la privacy e i dati, nonché sia in grado di salvaguardare l'integrità di file, sistemi e dispositivi. Il facilitatore promuove anche eventi e iniziative culturali sul territorio che sono finalizzate a presentare nuovi strumenti digitali utili a cittadini, scuole e imprese coinvolgendo diverse organizzazioni nella pianificazione di queste attività e anche gestendo apposite attività di comunicazione e di divulgazione che possono essere offline. Infine, partecipa a iniziative per la formazione e l'aggiornamento sui temi del digitale, al fine di dare alla cittadinanza un servizio sempre al passo con gli standard tecnologici e l'innovazione digitale. Queste attività sono svolte attraverso diversi canali e format che possono essere ad esempio l'attività di supporto individualizzato, quella che ci immaginiamo quando pensiamo alla facilitazione digitale, per rispondere a richieste di supporto provenienti dagli utenti del servizio, ad esempio sessioni di navigazione assistita, la realizzazione di microcorsi informali o tutorial in presenza sull'uso dei dispositivi o degli applicativi digitali, iniziative di sensibilizzazione anche svolte principalmente offline, come dicevamo, volte a stimolare l'inclusione digitale delle fasce più marginalizzate o a rischio di esclusione dal processo di trasformazione digitale, e campagne di comunicazione e divulgazione online e offline con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo della rete e un uso più consapevole dei servizi digitali. Caratteristica chiave della facilitazione digitale e del resto è proprio quella di adattare gli interventi alle esigenze dell'utenza e quindi è opportuno lasciare un ampio margine di possibilità anche nella declinazione della progettazione di queste competenze e conoscenze da acquisire. È oltremodo importante però chiarire cosa non è previsto tra le attività del facilitatore, che ad esempio non organizza o eroga corsi di formazione che abbiano ad oggetto lo sviluppo di competenze specialistiche, non svolge attività di data entry che non sia strettamente legata all'erogazione del servizio di facilitazione, in particolare non si dedica alla dematerializzazione di documenti pubblici o insomma ad altre attività che non hanno a che fare con la facilitazione digitale. Non effettua riparazioni, non aggiusterà i nostri computer, i telefoni, i tablet o altri dispositivi elettronici e questo è importante perché il confine labile non effettua consulenza e assistenza in sostituzione di enti competenti in merito a specifici servizi pubblici o privati come ad esempio per la compilazione dell'ISE, della dichiarazione dei redditi o cose simili. Volete aggiungere qualcosa? Sì, volevo solo aggiungere che alcune valutazioni negative sui progetti dell'avviso sperimentale sono state legate proprio all'aver previsto per il facilitatore attività invece che sono ricomprese tra queste quattro, in particolare su quella relativa alle attività di data entry o comunque di attività legata all'informatizzazione dell'ente. Quindi da questo punto di vista all'inquadramento delle attività del facilitatore sono particolarmente importanti. Grazie mille. Ok, le competenze digitali di cittadinanza descritte da Digicomp 2.1 rappresenteranno almeno l'80% dei contenuti formativi previsti e la formazione su questi temi sarà impostata in modo da abilitare come anticipava il dottor Iacono, i partecipanti al conseguimento di una certificazione relativa almeno al livello di padronanza 5. Per fare un esempio concreto del livello di padronanza 5 nell'area ad esempio di competenza che chiamiamo collaborazione e comunicazione e nel possibile contesto occupazionale di un ente possiamo pensare a un operatore che è in grado di proporre cosa vuol dire livello 5? Vuol dire che ad esempio è in grado di proporre e utilizzare varie strategie multimediali come i sondaggi e gli hashtag sui social network per favorire la partecipazione a un evento di promozione del Servizio Civile Universale ed è inoltre in grado di informare i suoi colleghi su queste strategie, mostrare loro come utilizzarne una in particolare per potenziare le capacità personali e professionali insomma riesce in qualche modo a comunicare anche la sua competenza questo significa a grandi linee livello 5 su quest'area. Un esempio invece del livello di padronanza 5 nell'area di competenza sicurezza e nel possibile contesto sempre di nel contesto occupazionale di un ente è quello di un operatore che è in grado di proteggere l'account di un social network aziendale utilizzando metodi diversi ad esempio una password che ha caratteristiche forti oppure il controllo degli accessi recenti alla piattaforma e mostrare a nuovi colleghi come farlo questo operatore inoltre sarà in grado di individuare rischi come la ricezione di messaggi da follower con profili falsi, da bot o tentativi di phishing ed è in grado di applicare le misure necessarie per evitarli come il controllo delle impostazioni della privacy ed è in grado di aiutare i colleghi a rilevare rischi e minacce durante la gestione delle pagine social. Va ricordato che i volontari del servizio civile non arrivano con queste competenze vanno costruite. Un altro set di conoscenze e abilità tecniche sia digitali che legate ai contenuti della policy sarà il portato della formazione dedicata ai volontari e verterà sui temi dell'amministrazione aperta, delle iniziative e delle esperienze che vengono dalla strategia nazionale per le competenze digitali e i servizi digitali pubblici. Gli stessi contenuti saranno differenziati in funzione delle specifiche caratteristiche dei target individuati nel progetto di servizio civile digitale e in funzione del diverso ruolo di facilitazione che andranno ad assumere i volontari e gli operatori dei punti di facilitazione e della differente esperienza e conoscenza del contesto della PA. Infine, oltre alle competenze tecniche e alle competenze digitali, il percorso di formazione del volontario del servizio civile digitale prevede l'acquisizione delle necessarie competenze relazionali utili a rivestire il suo ruolo. Per progettare queste competenze abbiamo seguito la trattazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente del Consiglio dell'Unione Europea, che è il modo in cui il Consiglio dell'Unione Europea traduce l'idea di soft skill, e in particolare nella competenza personale, sociale e della capacità di imparare e imparare. A quest'area di competenza appartengono le abilità e le conoscenze che consentono di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in modo costruttivo, di gestire in autonomia il proprio apprendimento, ma comprendono anche la capacità di far fronte alla complessità, di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo e comprendere codici di comportamento e punti di vista diversi. Un tema importante sarà il rispetto appunto della diversità degli altri e delle loro esigenze e la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi. Passiamo ora a un focus sulla scheda programma e la scheda progetto relative al servizio civile digitale. Nella scheda programma forse il primo punto che è necessario specificare è quello dell'occasione di incontro-confronto con i giovani. Qui in questa sezione è necessario indicare e descrivere il numero degli eventi, le modalità e il periodo di realizzazione rispetto alla durata del programma, tenendo presente che deve essere prevista almeno un'occasione di incontro-confronto in presenza, che è diverso dalla formazione. È organizzato dagli enti attuatori del programma di intervento, con gli operatori volontari di servizio civile impegnati nei singoli progetti dello stesso programma. Nella sezione territorio, contesto, bisogni e aspetti da innovare, va detto che a integrazione di quanto previsto dalle disposizioni, cioè dal circolare, si richiede di articolare la descrizione indicando al massimo in 2000 caratteri il territorio geografico, il contesto in cui si inserisce il programma specificando sinteticamente se i servizi previsti dai progetti sono già attivi anche solo parzialmente o se sono servizi completamente nuovi, i bisogni e gli aspetti che si intende innovare, gli indicatori, cioè la situazione ex ante e a fine programma, che sono complessivi del programma in termini di possesso di competenze digitali nella popolazione destinataria, utilizzo di internet in generale, grado di utilizzo dei servizi digitali pubblici o privati. Va indicato anche il risultato atteso a fine programma in termini di numero di destinatari coinvolti nelle attività di facilitazione ed educazione digitale. Prego, Toriacono. Sì, integro brevemente. Ovviamente il dettaglio sia a livello di contesto, di obiettivi, poi viene specificato nelle schede progetto. Qui, come sappiamo, viene data un inquadramento generale del programma e quindi anche della logica con cui poi sono correlati i progetti. Quindi per questo anche c'è una limitazione, una richiesta di maggiore sinteticità di questa parte, sapendo che poi un maggiore dettaglio è possibile all'interno della descrizione dei progetti. Però l'importante è che appunto venga definita la logica complessiva con cui è stato articolato e strutturato l'intero programma con i progetti. Dottor Iacono, ne approfitto perché nella chat qualcuno dice che nelle linee guida dello scorso anno noi indicavamo di non compilare questa sessione. Allora, bisogna fare molto attenzione a seguire le linee guida, le linee di quest'anno perché sono molto diverse in tanti punti e questo è il primo. Sì, noi in queste slide stiamo seguendo le linee guida, quindi stiamo ripercorrendo le linee guida in modo tale da poterle commentare via via. Perfetto. Ok. Nella sezione integrazione tra progetti e programma che nelle linee guida dell'anno scorso non era da compilare, quindi attenzione, se trovate questo nelle linee guida vuol dire che state guardando il documento sbagliato, la circolare dispone di descrivere la relazione tra ciascun progetto e il programma, specificando come i progetti contribuiscano alla realizzazione dell'obiettivo o degli obiettivi del programma stesso nell'ambito di azione individuato per far emergere la visione e la strategia complessive. A integrazione di questo, le linee guida di quest'anno richiedono di effettuare la descrizione facendo emergere in 2000 caratteri come i progetti contribuiscano all'obiettivo complessivo del programma, gli aspetti comuni ai diversi progetti presentati all'interno del programma, le principali specificità di questi progetti e inoltre in questo paragrafo andrà riportata la dicitura con cui si dichiara la disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e valutazione centralizzate previste nel programma quadro. Sì, quindi la parte di programma, la di scheda programma si conclude permettendo di dare una presentazione dei diversi progetti in modo da poterne dare una lettura diciamo più chiara e integrata dall'altra parte possibile e questo, diciamo così, è il valore importante di questa sezione della scheda programma. Dall'altra parte la disponibilità per noi è importante proprio perché il sistema di monitoraggio che deve essere alimentato ovviamente dagli operatori e dall'altra parte quella che poi vedremo come valutazione di impatto richiede la disponibilità diciamo a contribuire vedremo in che modo però più che altro è importante appunto che esplicitamente l'ente dichiare la disponibilità all'utilizzo dei sistemi che del sistema centrale che vengono messi a disposizione. Perfetto Passiamo allora alla scheda progetto che deve essere compilata per ogni progetto incluso all'interno del programma di riferimento nella sezione relativa al contesto le linee guida integrano le disposizioni chiedendo di descrivere in 4000 caratteri il contesto in cui si inserisce il progetto con esclusivo riferimento agli obiettivi del progetto specificando sinteticamente se i servizi sono già attivi anche solo parzialmente o nuovi si chiede inoltre di dare evidenza degli aspetti da innovare o soddisfare sulla base specifica dell'analisi di contesto e di esplicitare gli indicatori del progetto con riferimento alla popolazione destinataria in termini almeno di possesso di competenze digitali utilizzo di internet in generale e grado di utilizzo dei servizi digitali pubblici e privati quindi il contesto deve essere relativo all'obiettivo che abbiamo come programma di servizio civile digitale che è quello di sviluppare le competenze digitali di base dei cittadini quindi tutto ciò che raccontiamo nel capitolo del contesto è indirizzato a comprendere come il progetto può avere un impatto positivo su questo tema specifico quindi anche i dati o i fenomeni che vengono rappresentati all'interno di questo capitolo trovano diciamo così una ragione di essere se sono indirizzati a questo tema così come è importante se lì dove sono disponibili disporre di dati avere ed esporre dei dati sull'utilizzo dei servizi pubblici ad esempio oppure se si hanno di utilizzo di internet in generale relativo al contesto specifico territoriale di cui stiamo parlando e ovviamente relativamente alla popolazione coinvolta quindi quanto più questo contesto è specifico chiaro indirizzato al tema quanto più dà anche la base per poi definire il resto del progetto questo lo sottolineiamo perché nella valutazione nell'ambito del progetto sperimentale abbiamo trovato invece anche delle definizioni di contesto molto generiche su tutto ciò che atteneva all'informatizzazione e al digitale sulla particolare regione ma senza avere poi un'analisi specifica rispetto alle competenze digitali di base dei cittadini e su quel territorio specifico dove andava poi ad agire il progetto quindi è molto importante che il contesto rappresenti effettivamente poi la base su cui si innestano le attività progettuali lo stesso discorso vale per i destinatari che nel campo successivo vanno indicati in modo dettagliato così che la loro individuazione risulti strettamente funzionale al progetto quindi è importante fare riferimento specifico ed esclusivo al contesto e agli obiettivi progettuali inclusa la dimensione quantitativa della popolazione destinataria nelle sue articolazioni considerate dal progetto qui ci sono migliaia di caratteri per fare questa cosa per quanto riguarda gli obiettivi si richiede di specificare la tipologia di servizio perché l'ente deve descrivere l'obiettivo del progetto facendo riferimento specifico alla tipologia indicata è importante che nella definizione dell'obiettivo l'ente faccia riferimento specifico al contesto di partenza rispetto ai bisogni e allo stato corrente di attivazione dei servizi di facilitazione o di educazione oltre che alla previsione di evoluzione e miglioramento del servizio al termine del progetto nella sezione successiva devono essere riportate le attività previste all'interno del progetto con relative tempistiche ruolo degli operatori volontari e delle altre risorse eventualmente impiegate tra le attività ad esempio avremo quelle di rilevazione dei bisogni dei cittadini nei luoghi di fruizione dei servizi pubblici le attività di divulgazione per facilitare l'accesso ai servizi pubblici le attività di comunicazione dei servizi previsti dal progetto e la partecipazione ad attività di progettazione e miglioramento dei servizi non possono essere inserite invece attività che non attengano in modo specifico all'obiettivo progettuale ad esempio attività di dematerializzazione come dicevamo prima o inserimento dati che non siano legati ai servizi di facilitazione o educazione digitale integro un po' sto guardando anche intanto per capire se riusciamo ad essere chiari anche un po' la chat quindi le attività ovviamente sono devono essere pensate come attività specifiche del progetto questo significa che ovviamente lì dove ci sono dei servizi di facilitazione già attivi piuttosto che da attivare ci aspettiamo che ci siano delle attività diverse da un lato appunto per rafforzare e potenziare quello che è in atto dall'altra parte per riuscire a istituire definire un servizio di facilitazione quindi le attività devono essere ovviamente non soltanto relative e specificatamente legate all'obiettivo progettuale ma devono essere anche tali da far vedere che appunto poi il servizio di facilitazione o di educazione digitale viene messo in piedi rispetto a quelle attività che sono indicate per quanto riguarda gli indicatori e gli obiettivi ovviamente non per tutti i territori è possibile avere dei dati di dettaglio quanto più ci avviciniamo a dati sull'utilizzo dei servizi sulle competenze digitali sul quindi diciamo anche sulla capacità e anche le carenze che ci sono nella popolazione di essere autonomi sul digitale meglio è lì dove ovviamente non riusciamo ad avere dei buoni dati di dettaglio è buona pratica avere all'interno delle attività così come in buona parte questo è successo nei progetti che hanno partecipato all'avviso sperimentale definire anche delle attività di rilevazione rispetto ai con dei questionari rispetto agli utenti che vengono diciamo al territorio e a uno studio specifico del territorio per quanto riguarda il sistema di monitoraggio noi intendiamo ovviamente il sistema di monitoraggio dipartimentale e lì come vedremo sono compresi anche dei questionari che ci possono aiutare da questo punto di vista per comprendere quali è il livello di competenze digitali di base degli utenti prego martine prego paolo ok i moduli di formazione specifica erogati direttamente dall'ente di servizio civile quelli che valgono 12 ore devono essere realizzati in presenza o e integrati volendo con attività online per questi moduli non è possibile prevedere eventuali strumenti di didattica a distanza a meno che questo non sia imposto dalla situazione covid insomma gli enti devono descrivere soltanto i moduli e i relativi contenuti formativi di loro competenza che consistono in queste 12 ore di formazione inerenti i temi specifici progettuali e organizzativi nelle 12 ore deve essere previsto anche il modulo sulla formazione informazione sui rischi connessi all'impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale in particolare la formazione in stretta correlazione con gli obiettivi le attività e i destinatari progettuali deve prevedere di trattare anche temi come le modalità di organizzazione del servizio le modalità specifiche di erogazione del servizio e quindi le attività svolte dagli operatori volontari i servizi digitali locali ad esempio forniti dall'amministrazione comunale dalle aziende sanitarie locali dalle biblioteche le istituzioni del territorio oltre a quelli specifici nazionali come la dichiarazione ISE la compilazione della dichiarazione ISE questo è il distinguo labile che dobbiamo cercare di fare rispetto al fatto di compilare l'ISE per conto di un cittadino no si presenta il servizio ok non ci sostituiamo al cittadino ma cerchiamo di portare di dargli autonomia un altro tema potrebbe essere sono le competenze necessarie per svolgere il ruolo di facilitatore nello specifico contesto progettuale in coerenza con i moduli erogati centralmente i moduli erogati centralmente valgono 38 ore di formazione specifica più il supporto di servizio e sono erogate direttamente dai dipartimenti cioè dal dipartimento per la trasformazione digitale e dal dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale pertanto l'ente indica la durata complessiva solo la durata complessiva della formazione specifica all'interno del prego Nello sì no qui è importante che appunto siano moduli specifici rispetto al progetto rispetto allo specifico servizio e rispetto al territorio perché la parte diciamo così di generale trasversale viene effettuata attraverso appunto la formazione generale prevista dai dipartimenti così come possono essere ovviamente di supporto i moduli di autoapprendimento quindi quando parliamo di formazioni specifiche intendiamo qualcosa che è strettamente legata al servizio al progetto e al territorio questo lo sottolineiamo perché invece una valutazione negativa sono state è stato necessario dare per progetti che all'interno di un programma ma dislocati su territori molto diversi tra di loro e progetti anche con specificità e obiettivi diversi da loro presentavano invece la stessa progettazione la stessa diciamo articolazione di moduli formativi che a questo punto non potevano essere più ritenuti specifici quindi è molto importante che la parte specifica sia effettivamente legata al servizio proprio perché è quella che deve indirizzare direttamente il volontario al servizio direi che possiamo tornare ai servizi di facilitazione digitale come abbiamo già indicato nel webinar di venerdì ma vale la pena vale la pena ricordarlo gli enti che partecipano al bando possono prevedere due tipologie di servizi da realizzare la prima tipologia prevede la realizzazione o il potenziamento di un servizio operativo di facilitazione digitale presso l'ente fanno cioè parte di questa tipologia i servizi realizzati da soggetti pubblici o privati che già effettuano attività di facilitazione digitale attraverso per esempio punti di assistenza digitale già operanti nel lente oppure i servizi che si intende realizzare ex novo come sostegno delle proprie attività di assistenza all'utenza all'operatore volontario viene pertanto richiesto di effettuare le attività di facilitazione digitale inserendosi in un gruppo di lavoro esistente o da attivare per svolgere il servizio la seconda tipologia invece prevede la realizzazione di un servizio di facilitazione digitale attraverso un'attività di educazione di educazione digitale queste sono vere e proprie attività di formazione e diffusione della cultura digitale che vanno oltre i servizi erogati dall'ente ad esempio possiamo pensare a un ente che non ha direttamente a che fare con speed e identità digitale che però fa formazione su cosa si intenda oggi con il concetto di identità digitale e su come ottenere delle credenziali speed queste attività queste attività orientate all'educazione digitale possono essere rivolte in generale alla comunità territoriale oppure essere focalizzate su particolari categorie di persone con specifica attenzione ai soggetti esclusi o a rischio esclusione della transizione digitale per età o opportunità solo per sottolineare che stiamo parlando sia nell'uno che nel secondo caso di nuovo oppure di potenziamento sia di facilitazione che di educazione digitale o di entrambi l'importante è che ovviamente il progetto vada effettivamente a realizzare un potenziamento di questi servizi e che il facilitatore e volontario che svolge il ruolo di facilitatore abbia effettivamente un ruolo e diciamo sì un percorso di inserimento all'interno di questi progetti già esistenti che gli permettano di non solo di svolgere appieno il proprio ruolo ma anche di sviluppare e acquisire le competenze da facilitatore ok oltre a queste tipologie prevediamo delle attività complementari ci siamo già passati ma vale la pena capire il rapporto che c'è tra le due tipologie e le attività complementari che sono la rilevazione dei bisogni dei cittadini nei luoghi di fruizione dei servizi pubblici l'attività di divulgazione e la partecipazione ad attività di implementazione dei servizi previsti dal progetto ok le c'era una domanda in chat su questo sulla formazione dopo proviamo a rispondere in maniera organica magari durante le domande le attività rivolte all'esterno quindi non le attività complementari di cui abbiamo appena detto ma quelle delle due tipologie si svolgono con l'assistenza di almeno un facilitatore digitale in presenza che collabora all'individuazione delle esigenze del cittadino fornendo orientamento e supporto incluso l'accesso a internet e le attività da remoto si svolgono presso le sedi di attuazione dei progetti tramite telefono o strumenti insomma funzionali all'obiettivo come la messaggeria istantanea è opportuno ricordare che l'attività da remoto non può comunque superare il 30% dell'attività totale degli operatori volontari in termini di giorni o di ore che è una scelta opzionale ciascun punto di facilitazione deve avere una dotazione minima adeguata alle attività svolte questo include gli arredi e una connessione a internet conforme insomma allo standard in particolare ciascun punto di facilitazione deve essere dotato di almeno un computer per facilitatore attivo nella sede di facilitazione che deve avere una videocamera un microfono una stampante e uno scanner che insomma non è una cosa scontata ed è preferiamo promuovere politiche open source quindi è preferibile dotarsi di questo tipo di software per l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione è oltremodo necessaria ma è un tema insomma che ci riguarda tutti da un po' la disponibilità di locali idonei che siano anche questi dotati di impianti di audio e proiezione o insomma lavagne lim cose adeguate a un corso per quanto riguarda le attività di comunicazione che riguardano il servizio è fondamentale che i destinatari finali e quindi i cittadini che hanno nulle o scarse competenze digitali siano messi nelle condizioni migliori per l'accesso e la fruizione questo significa ovviamente prevedere delle modalità e dei canali specifici di comunicazione per il coinvolgimento dell'utenza dell'utenza fragile l'attività di comunicazione del servizio include la pubblicizzazione sui social network ma appunto visto che dobbiamo stare attenti che tutte le fasce anche quelle fragili vengano prese in considerazione si raccomanda che anche radio televisioni siano presidiate dall'attività di comunicazione la diffusione di materiale informativo nei luoghi di erogazione dei servizi pubblici e anche in questo caso cercheremo di coinvolgere biblioteche scuole centri anziani centri sociali e ricreativi e l'attivazione di campagne specifiche in occasione di scadenze amministrative in cui è necessario comunque importante l'utilizzo di servizi digitali ok sono previsti anche punti di facilitazione itineranti ci sono una serie di esperienze già già in essere insomma che hanno avuto un ruolo nel prototipazione dei servizi di facilitazione digitali e sono particolarmente utili per raggiungere i territori dei piccoli comuni delle aree interne delle aree periferiche e anche ovviamente i target più fragili per attivare un punto di facilitazione itinerante è opportuno individuare luoghi del territorio di riferimento che vadano a costruire un itinerario che si basa su target precisi prevedere azioni di pubblicizzazione specifiche sulla base delle comunità che intendiamo coinvolgere calendarizzare periodicamente questo tipo di attività perché diventi un'attività su cui il cittadino può contare progettare attività di sportello sulla base dei parametri delle tipologie dei fruitori e quindi dei luoghi di aggregazione individuate nei territori e attivare forme di peer education e attività di scambio intergenerazionale perché l'attività sopravviva anche quando non siamo più in itinere sul territorio forse adesso possiamo passare al ai focus prego prego dico secondo una cosa noi abbiamo avuto nella parte diciamo nell'avviso sperimentale sia dei punti itineranti concepiti proprio diciamo all'interno di camper che si spostavano sul territorio proprio per raggiungere zone periferiche o appunto piccoli comuni più difficili da raggiungere o comunque su cui era più difficile anche pensare di aprire un punto fisico stabile però dall'altra parte anche il punto itinerante si può concretizzare in un servizio praticamente a domicilio per soggetti fragili che ad esempio come è successo devono essere assistiti per poter usufruire di servizi importanti necessari come ad esempio l'assistenza medica il teleconsulto la telemedicina quindi sono tutti diciamo modalità che possono configurare un punto di facilitazione itinerante che vanno collocati all'interno appunto dello specifico obiettivo progettuale e quindi anche del diciamo del modo con cui questo obiettivo può essere può essere raggiunto nella maniera più efficace possibile prego io dottori Acono passerei invece al focus sulla misurazione e la valutazione d'impatto ok così andiamo rapidamente alla conclusione e concludiamo con due diciamo specificazioni noi abbiamo detto che mettiamo a disposizione come dipartimento per i facilitatori e per gli enti due sistemi uno è il sistema di monitoraggio di cui adesso parliamo un po' di più e poi il sistema di knowledge management dove il sistema di condivisione delle conoscenze di cui abbiamo parlato venerdì è un supporto ancora ulteriore per i facilitatori per condividere tra di loro dubbi e anche proposte e idee e dall'altra parte per poter anche usufruire meglio di tutto ciò che viene realizzato all'interno dei punti di facilitazione digitale del servizio generale nazionale legato all'educazione digitale per quanto riguarda il sistema di monitoraggio il l'obiettivo è da un lato quello di avere una raccolta di dati omogenea sul territorio e dall'altro quello di poter anche avere dei dati utilizzabili per capire se appunto il tipo di servizio che stiamo fornendo nei diversi punti è abbastanza efficace oppure deve essere ulteriormente diciamo così curato perché lo diventi per cui la raccolta dei dati si basa su questionari che ovviamente sono non non pesanti ma significativi e che sono già stati utilizzati in contesti simili quindi in punti di facilitazione e anche da operatori di servizio civile e sono dei questionari che vanno a indagare non soltanto in generale a profilare a livello sociale demografico il cittadino che usufrisse del servizio ma anche la sua abitudine a utilizzare internet e i vari servizi oltre a richiedergli una valutazione su alcuni dei temi sempre pensando che siano legati alla digicomp quindi alle competenze e alle sue competenze digitali il sistema il questionario prevede poi ovviamente non solo l'identificazione del gradimento del servizio che gli è stato offerto ma anche degli spunti per capire come proattivamente proseguire magari con altri appuntamenti oppure con un approfondimento con approfondimento attraverso dei dei corsi dei mini corsi ovviamente tutto tutta l'attività del facilitatore può essere supportata dalla dall'utilizzo dei dei moduli che di apprendimento l'altra l'altro punto su cui ci soffermiamo sono le 15 e 10 quindi non voglio togliere spazio alle risposte alle diverse domande che sono comparse in chat il modello di valutazione e quindi la valutazione di efficacia di impatto di cui abbiamo parlato e valutazione di impatto dell'intero progetto nazionale ci serve anno per anno per capire se ci sono dei punti da migliorare delle criticità da superare da affrontare e superare in modo tale che il programma quadro annualmente possa essere possa recepire tutto ciò che è stato appreso nel ciclo annuale nell'anno precedente quindi è un modello di valutazione che diciamo prescinde dal che utilizza i dati dei singoli progetti ma non va a valutare il singolo progetto e sostanzialmente si basa sul confronto tra il livello di competenze digitali che viene acquisito da cittadini che usufruiscono dei servizi di un certo progetto e un gruppo di controllo invece formato da cittadini che non usufruiscono del particolare servizio e quindi in modo tale da mettere a confronto e vedere se effettivamente il progetto nazionale sta raggiungendo un impatto e quindi un miglioramento nelle competenze digitali dei cittadini per fare questo ha in modo in qualche modo legato a certi parametri che si vogliono indagare dall'altro anche randomicamente quindi selezionando dei campioni statistici ad alcuni cittadini in particolare si richiederà qualche domanda in più e qualche possibilità quindi di essere intervistato più volte in modo tale da poter permettere questa osservazione comparata quindi il contributo che poi si chiederà agli enti è che se ricadono nella valutazione su quei progetti su cui si vuole indagare nell'ottica della valutazione di impatto complessiva si deve dare maggiore disponibilità perché appunto ad alcuni cittadini siano richieste un po' più di domande però diciamo è questa una valutazione che sarà certamente leggera diciamo così nei confronti dei cittadini proprio per permettere soprattutto di avere efficacia nel risultato ma anche un contributo importante e utile da parte loro abbiamo ripercorso un po' tutti i temi del programma quadro quindi vi ringraziamo e penso a questo punto possiamo andare sulla nello spazio delle risposte alle domande che sono state poste perfetto allora provvedo ecco qua ho sistemato le domande nel box ditemi se vedete se riuscite a leggerle sono molte le domande che ho visto ad alcune avevo cercato di rispondere nel tema via via che che le abbiamo affrontati però Silvia non so se tu vuoi rispondere rispetto alle domande alle prime domande che sono relative ai periodi altrimenti sì ecco sicuramente cerchiamo di vedere un attimo alcune domande e cerchiamo di diciamo rispondere puntualmente allora dunque allora vediamo un attimo l'avviso e quindi l'avvio dei volontari entro il termine del mese di luglio ne abbiamo viste più di una quindi andiamo a rispondere su questo allora è un vincolo e quindi questo l'avevamo detto già nel primo webinar è un vincolo fissato dalla Mindstone del PNRR quindi siamo obbligati a diciamo ad avviare i progetti di servizio civile digitale entro luglio del 2022 allora per avvio noi intendiamo l'avvio classico cioè deve essere avviato il progetto quindi con la formazione con il percorso di formazione quindi la formazione generale dei ragazzi chiaramente poi l'avvio delle attività secondo la schedulazione delle attività che ognuno di voi ha ha già definito quindi quando si chiedeva l'inizio della formazione dei ragazzi o il vero e proprio progetto con la cittadinanza ecco l'avvio si riferisce al progetto e quindi include il tempo dedicato chiaramente al percorso di formazione allora quando praticamente dunque se non sbaglio c'era un'attività qui Sandra Stocco le attività di educazione digitale possono essere realizzate anche in integrazione a un altro progetto di educazione digitale già in essere quindi chiaramente sì abbiamo detto che noi possiamo diciamo il progetto potrà ampliare eventualmente o appoggiarsi a un servizio digitale già presente quindi sicuramente sì e si possono quindi diciamo per così dire ampliare continuare anche attività già iniziate in sede di altro progetto attività di facilitazione e supporto anche a distanza nella compilazione di domande online ad utenti che non hanno digital divide ma hanno comunque difficoltà nell'uso di un servizio online fornito dall'ente ospitante allora ovviamente non non è accettabile un servizio di call center da parte del del facilitatore quindi il facilitatore il volontario deve quindi il servizio di facilitazione deve essere tesa a far sì che il il cittadino si sviluppi la capacità di essere autonomo nell'utilizzo di certi servizi quindi se ci rivolgiamo se se ci se pensiamo a un servizio di facilitazione che semplicemente dia delle informazioni sull'utilizzo di un di una modulistica ecco quello lì che è molto più vicino appunto a un call center o un urp di un servizio già esistente non può essere considerato facilitazione vado cerco di andare avanti Sandra Stocco ancora i requisiti per i ragazzi allora la selezione di volontà di servizio civile non ci sono competenze di base quindi i requisiti da rispettare non ce ne sono requisiti di base noi puntiamo alla massima inclusività chiaramente quindi anzi a team di progetto anche voglio dire etereogenei con ragazzi di diversa estrazione sia culturale che diciamo umana culturale di atteggiamento quindi non non sono previsti requisiti speciali per i ragazzi stiamo parlando ovviamente della risposta all'avviso che attualmente è pubblicato quindi quello con scadenza 10 marzo e in merito alle modalità di compilazione si torna sul numero dei caratteri abbiamo già detto nel primo webinar su questo quindi torniamo a confermare la necessità di sintesi quindi 2000 caratteri complessivi chi chiedeva se sono precisi o meno sono ovviamente indicativi non diciamo non 2010 non è problema ma il concetto è che i contributi devono essere sintetici quindi complessivamente di circa 2000 caratteri e non più di 2000 quindi su questo diciamo siamo stati già precisi nella risposta c'è qualche commento che andiamo a raccogliere sul fatto dei pochi o tanti caratteri è gradita la sintesi vi abbiamo già detto nelle varie tornate diciamo nei vari avvisi che il contributo sintetico è sicuramente un contributo di valore chiaramente sintetico non si intende povero ma insomma si intende proprio che abbia tutti e soli gli elementi diciamo che poi portino una buona descrizione del contesto e riceviamo della documentazione che come sapete è troppo pesante ciò non vuol dire che sia ricca ma che poi trova una difficile un difficile difficile spazio di valutazione quindi assolutamente premiata come d'altronde in ogni ciclo di programmazione è premiata la sintesi quest'anno è il primo anno che inseriamo il limite sul numero dei caratteri ma in realtà il criterio della sinteticità per tutti i campi descrittivi era sempre tenuto assolutamente in conto dalla commissione che valutava e c'è il ti prego di rispondere ti sapie per quanto riguarda le fonti attendibili aggiornate specifiche che non sempre sono disponibili per il territorio comunale per cui è condizione necessaria per l'ente fare almeno riferimento alla situazione regionale e qui abbiamo appunto detto che lì dove non ci sono dei dati di dettaglio comunque bisogna prevedere che nella fase iniziale questa situazione che un'attività preveda questa analisi e quindi in qualche modo si colmi questa parte se non ci sono dati a disposizione però possono essere anche evidenze non soltanto numeriche specifiche ma anche un po' qualitative del tipo di attività che c'è all'interno del territorio sulle competenze digitali Sandra Stocco chiede nelle attività possibili potrebbe essere anche la cura e la collaborazione alla gestione del sito internet istituzionale o dei canali social istituzionali quello che abbiamo detto è che se queste sono attività soltanto relative e specificatamente relative al servizio di facilitazione intese come attività di comunicazione legate al servizio di facilitazione quindi stiamo parlando non so di una pagina dedicata al punto di facilitazione oppure di comunicazione legata agli eventi dell'educazione digitale curati dal volontario possono essere considerate delle attività collaterali ma la gestione del sito internet in quanto tale è al di fuori rientra nelle attività che non sono quelle su cui dovrebbe essere coinvolto il facilitatore così come un'attività da operatore sui social media istituzionali anche quello non è un'attività da facilitatore e non rientra negli obiettivi del servizio di facilitazione quindi quelle in generale sono da escludere c'è poi un'attività una richiesta da parte di Barbara Milani riguardo il luogo e la sede di realizzazione del progetto qui ricordiamo che il luogo di svolgimento deve essere la sede definita come sede dell'attuazione del progetto e deve essere una sede accreditata nell'albo quindi diciamo su questo e va definita chiaramente all'atto di presentazione del progetto e va indicata quindi questo sicuramente sì allora ci sono varie domande sulle sedi qui voi ricordate per quanto riguarda la sede di lavoro anche ancora Sandra Stocco e quindi sede di lavoro dei facilitatori digitali necessariamente essere quella dove opera il responsabile del progetto può essere dislocata in altra sede sempre dell'amministrazione comunale titolare del progetto noi stiamo intendendo le sedi di attuazione del progetto poi sapete che abbiamo definito sede primarie eventuali sede secondarie ok quindi c'è un declinato e addirittura diciamo quindi chiaramente però l'operatore locale di progetto e comunque chi segue il volontario è la persona la figura che è nella sede di attuazione del progetto chiaramente se poi il volontario è dislocato in una sede secondaria dovrà seguire il volontario il volontario deve essere assistito il ragazzo deve essere opportunamente assistito quindi riguardate effettivamente come sono dislocate le sedi ma la sede principale di attuazione deve esserci e lì deve esserci il personale che seguirà i ragazzi ok quindi questo sicuramente la formazione i moduli specifici possono essere erogati anche attraverso personale interno all'ente purché ovviamente aggiungo abbia i requisiti no come formatori per quanto riguarda tutti gli spostamenti torno sulle sedi e qui è l'ultima domanda quella di Francesca Maria Merler e praticamente tutte le indicazioni relative allo spostamento dei ragazzi sono quelle che disposte dalla circolare concernente la disciplina dei rapporti tra enti operatori volontari che di servizio civile del 14 gennaio 2019 quindi le disposizioni sono quelle per gli spostamenti tra le sedi quindi ci rifacciamo alle modalità classiche del servizio civile ci sono poi una serie di domande sulla certificazione allora inizio con la formazione prima quindi la formazione qui analisa di Mauro il punteggio per il numero di ore di formazione dipartimentali e quella dell'ente allora le 38 ore sono erogate dal dipartimento le altre ore che sono 12 minimo 12 sono previste come erogate dal lente quindi 12 ore sono quelle diciamo da erogare a cura del lente poi se vogliamo possiamo andare ora sulla batteria di domande che sono più d'una per quanto riguarda per la certificazione dunque noi abbiamo Arianna Vitale quindi il box 21 è riferito al tutolaggio e quindi la certificazione delle competenze quindi si parla di un esame finale quali sono le indicazioni in merito allora la certificazione deve essere erogata da un soggetto titolato ai sensi del decreto legislativo 13 del 2013 ok quindi diciamo va indicato un soggetto titolato ai sensi di questo decreto legislativo quindi non ci sono noi non diamo indicazioni specifiche per l'esame ok diciamo la certificazione è erogata da un ente che ha questo tipo di di titolarità e quindi come tale è lui che specifica percorso specifico di formazione relativo esame ok quindi diciamo voi ci indicherete il soggetto titolato ai quali attribuirete la facoltà di fare di eseguire la certificazione e diciamo e quell'esame è già incluso diciamo è già previsto dall'ente certificatore allora Sara Polantini fa una domanda rispetto allora la leggo rispetto alla certificazione delle competenze l'ente terzo che certifica al punto 12 le competenze può essere lo stesso ente che indichiamo al punto 21 2 nelle attività obbligatorie del tutoraggio per la certificazione delle competenze che tipi di accordi dobbiamo allegare e può essere lo stesso allora attenzione le attività sono distinte e quindi noi ci riferiamo ad enti che abbiano i requisiti per svolgere il tutoraggio da una parte e la certificazione per l'altra eventualmente può essere anche lo stesso soggetto ok però diciamo noi dobbiamo avere due accordi separati uno che dia evidenza del percorso di tutoraggio ok e l'altro dell'effettiva diciamo capacità di svolgere la certificazione ai sensi della 1313 quindi si tratta comunque diciamo di due accordi separati o comunque un accordo che includa le due fatti specie Irene Galletti sì la certificazione ce ne sono tante il dipartimento per la trasformazione digitale appunto offre questa possibilità di certificare le competenze basate sul modello Digicomp quindi stiamo parlando di competenze digitali su tutte e cinque le aree di competenze quindi verrà fatto un esame da parte di enti accreditati per il rilascio di questo certificato c'è un'altra domanda che è interessante perché quella di Galletti che pone l'attenzione sul tutoraggio misura ovviamente dice per i giovani coinvolti sarebbe un percorso molto importante a prescindere dal percorso di certificazione delle competenze ecco devo dire che quest'anno abbiamo introdotto la certificazione a fine del percorso di tutoraggio quindi è un elemento obbligatorio nella misura del tutoraggio quindi sarà effettivamente valutato dal punto di vista proprio della valorizzazione del punteggio e poi anche una volta eseguito il progetto stiamo parlando anche della fase rendicontale soltanto se è presente nella misura del tutoraggio effettivamente la certificazione quindi è un elemento obbligatorio diciamo per grandi linee abbiamo risposto l'ente che rappresento è in attesa di iscrizione questa Francesca consigli è ipotizzabile una proroga nei termini di scadenza non prevediamo proroghe nei tempi di scadenza e purtroppo non possiamo proprio per questi impegni capestro che sono segnati dal PNRR ma garantiamo che l'iscrizione sia all'albo di servizio civile sia effettuata in tempo quindi ora vedremo in particolare l'ente ma insomma tutti i procedimenti di iscrizione sono attualmente tutte le istruttorie sono state aperte quindi stiamo terminando tutti i procedimenti quindi ora non so la collega Francesca consigli ora me la segno ma insomma di che ente fa parte magari se me lo vuole scrivere in chat ma se no lo rivedrò ma comunque noi eseguiremo tutti i procedimenti di iscrizione in tempo utile diciamo e quindi al netto chiaramente degli articoli 2 che conoscete e degli articoli 10 quindi della capacità che poi si e del processo di antimafia che siamo tenuti ad eseguire ovviamente però insomma stiamo facendo tutto ora me la segno e lo verificheremo ma insomma abbiamo già aperto tutte le istanze possiamo inserire sedi ancora non accreditate diciamo le sedi devono essere accreditate se no non potete però nemmeno tecnicamente inserirle perché vi diamo facoltà di inserire una sede se solo se è scritta nell'albo quindi diciamo questa cosa non sarà possibile sapete che sono la sede di svolgimento del servizio civile è soggetta a una serie di controlli che sono come dire ineludibili quindi diciamo dobbiamo per forza averla accreditata per poterla citare nel progetto allora rispondo all'ultima domanda mi sembra della Merler sì ci sarà una sezione FAQ ora alla conclusione del webinar metteremo insieme ovviamente le domande in gruppi di domande e pubblicheremo delle FAQ quindi ritenetele diciamo pubblicate ecco nei prossimi giorni ma che in un certo senso riprenderanno i temi che avete posto e vi e vi e vi replicheranno sul sito vediamo altre risposte diciamo può essere la stessa in entrambi i progetti presumo due progetti che fanno parte del che impattano sullo stesso servizio l'importante è che appunto la formazione specifica tratti il servizio specifico in cui è inserito il volontario e quindi quel territorio e quindi sia effettivamente specifica e contestuale quindi a secondo del tipo di progetto l'importante è che appunto assolva a questo compito sì cioè di fatto ovviamente stiamo sviluppando le competenze stiamo certificando le competenze del progetto quindi ovviamente deve essere vicina alla finalità del progetto all'attività del progetto quindi se poi i progetti sono analoghi a livello di attività può andare bene un percorso di certificazione di competenze ovviamente anche lo stesso non c'è preclusione su questo ci deve essere coerenza però ovviamente tra il progetto e quindi le attività del progetto e quello che andiamo a certificare in sede di certificazione allora in più di un collega degli enti fa riferimento al fatto che nelle regioni non ci siano enti accreditati per la certificazione delle competenze ecco questo diciamo è a livello nazionale che il decreto legislativo agisce e quindi diciamo enti certificatori si può accedere a un ente certificatore anche di un'altra regione non solo della regione in cui si opera ecco qualora non c'è preclusione in questo cioè gli enti certificatori certificano delle competenze che valgono a livello nazionale o regionale quindi si può far riferimento anche ad enti che operano in altre regioni o a livello nazionale quindi non c'è preclusione la scelta è ampia lo chiedeva sia Ilaria Ribichini se non sbaglio e poi Sabrina Mancini Annarita Stoppiello se non sbaglio e altri ok va bene tornate sul numero dei caratteri e qui Sebastiano Miele diciamo i campi i caratteri sono riferiti alla sezione in cui vi trovate dice se i caratteri del contesto non vanno sommati nel programma nel progetto invece possiamo considerare la sommare con quelli ad integrazione cioè ogni allora c'è il programma e c'è il progetto quindi i contributi devono essere autoconsistenti non si può rimandare diciamo all'uno all'altro ma si deve circoscrivere all'ambito d'azione del programma chiaramente del progetto quindi eviterei parti ad integrazione cioè le varie sezioni non devono ampliare lo spazio che avete a disposizione valuteremo circa 2000 caratteri devono essere di contestualizzazione quello che andate a descrivere quindi nel progetto la contestualizzazione è sul progetto nel programma la vista è più ampia è ampia a livello di programma non possiamo citare le varie sezioni di contesto ad integrazione così come nel virgolettato che c'è nella domanda del collega ecco questo direi di no ogni sezione deve avere la parte descrittiva che sia autoconsistente chiaramente però riferita al contesto per esempio del progetto e quindi c'è l'ultima domanda riferita ai questionari indicatori di cui tener conto in fase di valutazione e monitoraggio ecco su questo vogliamo rispondere c'è l'ultima domanda citeremo un po' le domande però è quello che abbiamo già detto in questa fase quindi sono domande che riguardano la frequenza di utilizzo di internet piuttosto che l'utilizzo dei servizi digitali pubblici e in parte anche quelli privati e quindi tutto ciò che serve per avere un minimo di profilazione del cittadino e quindi del suo livello di partenza per cui diciamo nel corso delle prossime settimane dei prossimi mesi si andranno a magari a definire anche sulla base di alcuni riscontri che possono essere che possono venire anche dal progetto pilota però diciamo l'insieme delle domande è quello che abbiamo detto sicuramente possiamo esporre le domande però insomma sono quelle che vengono utilizzate normalmente nei punti di facilitazione digitale che già sono attivi in giro per l'Italia di e riassumeremo diciamo nelle fac i quesiti che sono abbiamo raccolto nella giornata del 25 di venerdì e anche di oggi quindi cercheremo di essere esaustivi e quindi nei prossimi giorni troverete le facche pubblicate sul sito del dipartimento non so se ci sono prego il sito pilota che è partito con l'avviso a maggio dell'anno scorso non ha a disposizione il sistema di monitoraggio di cui abbiamo parlato piuttosto che il sistema di knowledge management per cui si attiene strettamente al tipo di alle regole diciamo sì alle definizioni che erano presentate nell'avviso di maggio con il relativo programma quadro quindi la logica di definizione del monitoraggio è abbastanza diversa proprio perché qui abbiamo a disposizione un sistema di monitoraggio centrale quindi l'impostazione dal punto di vista della raccolta dati del monitoraggio degli indicatori è molto diversa quindi quello di cui stiamo parlando adesso è specifico proprio perché si basa su sistemi che sono poi messi a disposizione centralmente prego non vedo altre altre questioni sollevate forse forse bene quindi se vogliamo chiudere per noi va bene perfetto va bene allora per tutti intanto grazie il relatore per la disponibilità anche a rispondere a tutte le domande quindi chi non avesse ricevuto una risposta come diceva la dottoressa lo scopo consultare le fac che saranno pubblicate la registrazione del webinar sarà disponibile comunque da questo pomeriggio ringrazio tutti e arrivederci grazie ai redatori grazie grazie a tutti grazie 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 a tutti